E' iniziata la nuovissima stagione di Brawl Stars, quindi sapete cosa vuol dire? Si va a scioppare! Eccola qua! E' iniziata ufficialmente la stagione di Godzilla, con Tic Megaguidora, il titolo Gojira e tanto altro ancora ti aspettano e mi apre YouTube. C'è da dire che io ancora non ho capito quel che se clicco su guarda mi porta su YouTube, ma voi ragazzi lasciate un beh 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 mi piace adesso per altri video. Allora ragazzi io mi sono conservata tutto, abbiamo un botto di cose da fare, è iniziata la nuova stagione qui, tutto fantastico, partiamo sempre da bronzo ma ok. Poi abbiamo un botto di nuove missioni e ok felicissima la stagione di Godzilla, qui abbiamo un sacco tra l'altro di cose gratuite tipo devo ancora prendere la skin di Lily, la skin di Lily non la prendo ancora ma vado con le mie 200 monete della Gold Week e il drop, perfetto, ovviamente non è che queste me li conservo per un prossimo video, prendiamo questi, ah ok non avendo acquistato ancora il pass mi ci sono nella cara, ma andovai non puoi prendere doppia cosa se non hai la doppia cosa, raro, 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 questo era il drop dei trofei, vabbè perché ho superato i 7300 trofei, sto procedendo come si deve, allora raga eccoci qua, voglio shoppare il pass, voi direte Franci ma perché questa cosa? Eh ve lo spiegherò nel video di sabato perché sto facendo questa cosa, allora il mio account si è questo, perfetto, si, può, ma se lo acquisto allora ovviamente io vado ad acquistare il bro il bro plus pass il bro pass pass ok dal sito volevo provare ad acquistare dal sito della super stella proprio ma mi dice che non va quindi lo shoppiamo da qui e basta vado 12 euro vanno via così carini e coccolosi ho affettuato il mio acquisto, vediamo, vediamo, allora abbiamo avuto un botto già di, siamo già andati alla sedicisima cosa, mi è arrivata l'email hai acquistato, allora che abbiamo qui? Abbiamo 100 bling e vabbè 2500 bling, abbiamo i pass, abbiamo altri crediti, una nuova cosa del giocatore che è carinissima con un gozzillino, poi abbiamo altri crediti, altri crediti, bling, come limite il bling? No, devo per forza comprarli, ok, 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 questa cosa mi destabilizza, scusa, si bello, aspettate non è che posso comprare magari qualche skin per nita, quella delle caramelle gommose, eh, secondo me potrei comprare nita caramella gommosa, eh, vabbè, vabbè, ci valuto su, valutiamo su, io continuo ad aprirmi le mie cose, sto lasciando indietro volutamente i miei star drop, perché sono quelli che, eh, prenderemo a breve, questi li possiamo beccare, questi li ho, e abbiamo sbloccato Maxi, ok, allora, qua un botto, mi avete consigliato di sbloccare Leon, però, Sandy ha, la, se vi faccio vedere, eh, Sandy ha, ehm, la skin di, coia, dei pitti venturo, quindi, io per il momento inizio con Sandy, ma, ditemi voi, ditemi voi giù nei commenti se ho fatto bene o no, gemme, altre gemme, pure quindi stiamo spaccando con le gemme, altre gemme, link che non posso prendere, nuova reazione del giocatore, mamma mia, ci stiamo prendendo, tutte le cose, wow, sì, che bello quando uno scioppa il pass, stanno un sacco di soldi, un sacco di cose, mamma mia, mamma mia, mi sento proprio, guardate quanti soldi, ma guardate quanti soldi sto avendo, ma che bello non essere più poveri, poveri come la pupù, e avere soldi, allora, io però volevo vedere le skin, ma andando avanti, abbiamo, vabbè, il nuovo graffite, uh, accelera premio, oppure sblocchi un nuovo blower mitico, posso sbloccare uno di questi blower, vabbè, ok, poi ci sono altri bling, altre cose, poi abbiamo la skin del pass di Ghidorah, un'altra skin del pass, e poi abbiamo la skin finale, ok, ok, nuovi eventi, prima di andare a tutti gli star drop, raga, prima di andare a tutti, tutti, tutti gli star drop, ditemi giù nei commenti, perché io qua poi volevo acquistare questo per vita, alleato in formissima, ovvero l'equipaggiamento epico, che cosa faccio, lo acquisto o non lo acquisto? ditemelo voi giù nei commenti, allora, io vado con Nita, come missioni, vabbè, ho vinci proprio tre battaglie con Nita, così, quindi io vado in, ah no, questo è quello lì con la mutazione, Nita non ha la mutazione, quindi io semplicemente me ne vado in a raffagemme, vorrei vincere queste due battaglie con Nita, per prendermi lo star drop, per prendermi l'ovetto, e anche poi per iniziare a sbloccare tutti i drop sul nostro cammino, con Nita! ah, raga, tutto ciò che posso dirvi, e io che con Nita sto spaccando malamente, da quando l'overdrive, l'undici, è veramente fortissima, qua l'orso, l'orso diventa una macchina da guerra, eccezionale, Melody! L'orso è letteralmente una macchina, a che spari? È letteralmente una macchina da guerra assurda, Melody! Allora, abbiamo l'overdrive, ce lo lancio, vai, urso, vai e spacca, urso, mi fido di te, urso, vai a far vedere chi comanda, ue, 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 ma non ci provare mai più, oddio, 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 ok, ok, manca una gemma, eccola lì, ok, me ne vado un po' più qua, nel dubbio, non so se voglio lanciare l'orso per difendermi, ma aspetterei un altro pochino, c'è da dire che in modalità del genere Nita è spaziale, Nita con l'orso e l'overdrive in modalità rapina, raga, se vi conservate l'overdrive e l'orso, arrivate sotto sotto alla cassaforte, non scherzo, nel momento giusto l'orso può buttare giù tutta la cassaforte, quindi veramente, veramente fighissimo, allora ci andiamo ad aprire il nostro drop, abbiamo fatto un botto di missioni, quindi ci andiamo ad aprire il nostro drop, ok, che cosa facciamo, che cosa facciamo, facciamo un'altra partita per avere anche questo, sì, facciamo un'altra partita per avere anche l'ovetto, l'ovetto mostruoso, si spera sempre in un leggendario, l'ovetto mostruoso, ma non mi esce mai il leggendario, si spera un leggendario in questi 12 star drop, ragazzi, che io ho appena shoppato, cioè io spero davvero bene per questi 12 star drop, ma ok, allora c'è uno spike come nemico, spike a tratti è infame, spike può essere infame a tratti sconvolgente, però ok, Ems comunque anche molto molto forte, allora se io riuscissi ad avere quel ciccino di vita in più, ok, guarda a chi sto, ah mi sono incastrata nel muro, mi sono incastrata, aspettate raga, allora, datemi un attimo, ok, stiamo perdendo malamente, stiamo perdendo letteralmente malamente, se io riesco a buttare Ems giù, ok, devo correre, devo correre, devo correre, no ragazzi, vai vai vai, buttatelo giù, lo potete buttare giù, lo potete buttare giù, mannaccia, zitti 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 e me ne vado, zitti 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 e me ne vado, zitti 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 e me ne vado, ragazzi, Raga posso farcela Raga posso farcela Salvata in calcio d'angolo ragazzi Questa partita è stata salvata In calcio d'angolo Letteralmente Allora quindi adesso abbiamo anche il nostro vetto Che è super raro Epico Vabbè Mutazione Mutazione vernita Cioè raga ma mi possono mai uscire Cioè io vi vorrei far vedere le mutazioni che ho Ho la mutazione per Bea Per Penny per Spike Per Frank e per Rosa Cioè potrebbe uscirmi quella di Buzz Quella di Melody Quella di Nita che sono i tre che comunque utilizzo di più E invece niente da fare Allora raga vai iniziamoci con i primi star drop Super rare vabbè Super rare proprio ok Andiamocene con l'altro Cioè raga se non mi esce il leggendario Almeno uno leggendario Sono All'incirca dieci star drop Ok Se non mi esce il leggendario Potrei prenderla davvero molto male Se non mi esce il leggendario Ragazzi io potrei prenderla davvero Molto Molto Male Epico Comunque non è male Emoji del primo Ok Ragazzi Ma come si fa? Uno Due Tre Me ne restano tre Mi vado a fare queste due partite Per avere anche quell'altro star drop E poi ci fermiamo Con le partite E ci andiamo ad aprire tutti gli star drop Ok Ok Cause I'm I'm In the stars tonight So watch me Bring the fire set My light Bravo shame Allora mu arriva Edgar Eccolo L'avevo visto che ce l'aveva la suprema Ah Vai 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 Bra 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 Vabbè Colette mi ha spinto praticamente Tutte le gemmine qui Grazie Colette Dynamite Allora voi mi avete consigliato di portare Dynamite all'undici Perchè ho già l'overdrive Quindi Valutiamo Con tutti i soldi che ho Valutiamo Di portarcelo Ecco Non avevo dubbi che il wifi Iniziasse a rompere le scatole Ormai Non è Oddio 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 Ok Ormai Non è partita Non è video di Brawl Stars Se a me Le partite non iniziano a laggare Ormai lo sapete Ok non so come voglio fare Ok Ma Orso 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 Ragazzi Ragazzi Possiamo farcela Allora possiamo farcela Perchè ho l'overdrive Allora Orso Vai Vai orso Orso Ti sei fatto Ammazzare così In realtà Bisognerebbe andare Da quello Che ne ha nove Rilanciamo L'orso Ma Rilanciamogli L'orso Quanto più vicino Possibile Ah Si è trasformato In Godzilla No vabbè Godzilla No vabbè Godzilla Buzz Io ti voglio bene Mi hai fatto proprio il p***o Buzz Ti prego Anda Anda Vai Bravo Bravo Ok Dove stavo andando Ok Mamma mia Fantastico Abbiamo completato tipo un botto di missioni Questa cosa è fantastica Quindi ho un altro star drop Per Ho sbloccato 600 Che cosa ho sbloccato Una reazione La nuova reazione Ok Vabbè E poi Va bene Allora ragazzi Facciamo quest'altra Ci prendiamo l'altro star drop Se tutto va bene E poi ci andiamo ad aprire Tutto il resto Io resto del parere Allora Nonostante Io Non shoppi Il pass Per le skin A parte quella di Buzz Questa è la seconda volta Che io shoppo il pass Vi ricordo Ok abbiamo un EMS Anche l'altra squadra C'è EMS Non ho guardato minimamente Questa torretta Questa la perdiamo Si vede dal primo momento Raga Quali sono le partite Che si perdono A volte veramente Basta un secondo Per capire Quanto è la partita Che si perde E infatti L'abbiamo persa Ma a volte A volte veramente Si capisce dal primo momento Quando una partita La si perde Veramente La si capisce dal primo momento Ed è affascinante Questa come cosa Molto Molto affascinante Che non so Allora ragazzi Star drop Ci andiamo ad aprire Tutti gli altri Star drop E conclu- E diamo Dei pari E si spera Nello star drop Leggendario Perché altrimenti Ragazzi Io flip the table Perché io Ho dimenticato Quando è stata L'ultima volta Che ho avuto Uno star drop Leggendario Cioè non lo riesco A ricordare Capirò cosa fare Con questi bling Cioè io Non riesco A ricordare L'ultima volta Che ho avuto Uno star drop Leggendario Raro 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 Cioè raga Ma come Io voglio dire Tutto Ma com'è possibile Che a me Ragazzi è l'ultimo Non guardo Allora Normale Cioè dal suono Me ne rendo conto Nemmeno Ragazzi Quanti star drop Ho avuto Nemmeno Uno Leggendario Nemmeno Uno Leggendario Allora raga Con questi bling Che mi consigliate Di comprare Spensavo Appunto Di comprare La skin Questa qui Di Mita Caramella Comosa Che ne pensate Poi fatevi sapere Un po' Tutte quelle cose Che vi ho chiesto Anche per quanto riguarda Il gadget Di Mita Pareri finali Ragazzi Per me 12 euro Sono ben 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 spesi Perché veramente Mi danno un botto Di cose Guardate quanti soldi Ho avuto Sto a posto Per un po' Se me li gestisco Bene Skin ok Skin carine ok Reazioni carine ok Principalmente Ragazzi Per i soldi Per i soldi E per Gli star drop shop Principalmente Il pass Ma voi che cosa ne pensate Secondo voi Questo pass Di Godzilla E approvato O meno Che ne pensate Delle nuove skin Fatemi sapere tutto Giù Nei commenti Lasciate un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video E mi raccomando Non smettete mai di sognare Ciao 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 Grazie a tutti.